buongiorno buongiorno a tutti benvenuti a tgupel oggi ci occupiamo degli affidamenti in house nel nuovo codice dei contratti un tema radicato e sollevizzato nel tempo che ha trovato la linfa vitale da nuovi testi normativi che siamo soliti applicare in maniera abbastanza diffusa il codice dei contratti del 2023 ultima norma in ordine di apparizione ha articolato le modalità di gestione delle commesse pubbliche in tre grandi ambiti l'esternalizzazione cioè il ricorso pure al mercato attraverso la scelta mediante procedure comparative dell'operatore economico la cooperazione che sostanzialmente si va a applicare attraverso il modello sussiderio orizzontale previsto nel codice del terzo settore e terzo modello di cui ci occupiamo nell'incontro di oggi attraverso il meccanismo dell'autoproduzione cioè la gestione in economia o mediante il modulo in house in questo modo il modello dell'in house sostanzialmente va a consistere nella gestione di un servizio nell'affidamento di un lavoro per il tramite di una società posseduta da parte del comune o da parte del ente locale quindi una immedesimazione organica che in virtù della detenzione del pacchetto azionario o delle quote societarie da parte del soggetto pubblico fa sì che la società altro non sia che un organo una longa manus dell'amministrazione locale e quindi come tale sulla base della giurisprudenza della corte di giustizia dell'unione europea ormai storicizzata a partire dalla fine del secolo scorso può gestire direttamente dei servizi o erogare delle utilità a favore degli utenti quali sono le condizioni strutturali perché ciò possa avvenire il decreto 175 in materia dei servizi pubblici mette in evidenza alcuni elementi fondamentali che sono quello del capitale pressoché interamente pubblico la verifica del fatturato in misura non inferiore all'80 per cento a favore dei soci e dell'esercizio del controllo analogo a questi elementi di carattere strutturale fortemente radicati nell'ordinamento delle società pubbliche se ne affianca uno di più difficile definizione che è quello di carattere funzionale consistente in una verifica in un confronto del servizio gestibile attraverso la società in ausa rispetto allo stesso servizio che può essere gestito attraverso il ricorso al mercato è un elemento molto delicato un elemento su cui le amministrazioni sono tenute a porre in essere delle attività istruttorie particolarmente importanti che si affianca quello delle molteplici forme di articolazione con cui in auso si può andare a svolgere possiamo avere un in auso congiunto quindi laddove ci siano più amministrazioni che pongo in essa il controllo ma anche in ausa cascati in auso in partiti in auso orizzontale insomma una serie di modelli gestionali che nel tempo il legislatore e la giurisprudenza hanno posto in evidenza in maniera molto chiara ma in maniera abbastanza dedicata da un punto di vista applicativo io vi propongo di incontrarci il 5 giugno sui canali di upa d'italia all'interno di questo webinar che avrà per titolo gli affidamenti in auso dal nuovo codice dei contratti nel corso del quale cercheremo di porre in evidenza le difficoltà e le modalità risolutive di questo apparato normativo delle società controllate delle società in auso cercando di porre in essere elementi per non sbagliare vi attendo numerosi il 5 giugno e quindi arrivederci a presto grazie